Ciao stecchini belli, come va? Eccoci nel nuovo fantastico haul di Timo, nel frattempo ho scoperto che si dice Timo e non Temu, non ti temo, Timo. Allora, siccome questo ordine è molto scarno perché principalmente ho preso la cosa che vi ho fatto vedere già in copertina, quindi ho deciso di farvi vedere velocemente le altre cose che tanto sono poche e praticamente unboxarvi questa. Ve lo facciamo vedere se riesco, metterò dei video, vedremo un po' poi nell'editing cosa farò. E quindi cominciamo con le cose che non c'entrano niente. Allora, questo, questo è sempre il classico coso che, va bene, lo apro. Qualcosa per mettere a posto i vestiti che poi ci metto i vestiti dentro ma poi non so dove metterli perché non è che ho il letto di 44 piazze per cui ci posso mettere 19 di queste cose. Comunque, ecco qua, questo è colore petrolio, mi pare si potesse scegliere il colore. Vi ricordo che, siccome qua non becco mai sconti e non ci sono i punti, mi metto direttamente i prezzi che ho pagato io. Ecco qua, 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 ecco qua. Ecco qua, qui c'è l'altro trasparente, qui no, qui no, ecco qua, ecco qua. E poi c'è anche l'altro. La maniglia di qua, e di qua anche. Poi di questo è praticamente la stessa cosa, cambieranno un po' le misure e ha i cuoricini. Non sto manco a farvelo vedere. Poi, vediamo se, in realtà non mi ricordo cosa ho comprato. Perché quest'ordine mi è arrivato già un po' di giorni fa, però l'ho aperto, ho guardato un attimo. Se funzionava, se capivo come andava. Però, siccome è una settimana che sto maluccio la sera, sto mezza in coma. Quindi ho solo guardato, poi mi sto lì e ho detto che sì, poi ci farò un video. E non mi ricordo cosa ho preso. Allora, questo l'ho preso a parte. Fa parte però, cioè serve per la action camera dei boracci. Praticamente per le riprese subacque. Allora se riesco ad aprirlo. Ah, perché c'è lo scorcio. Tutta questa sigillaggine. Allora praticamente questo, che non è una cosa spinta. Allora, questo non so. Allora, dovrebbe calleggiare. Cioè si tiene in mano però dovrebbe calleggiare. Ci si mette la cosa, la camera qua. E poi questo si lega al polso. E serve per le riprese sott'acqua. Questo è quello che viene fornito. Però appunto questo si compra a parte. Non è nella confezione della action camera. Poi questo lo vedrete in un prossimo video con i gonfiabili. Che me li chiedete sempre e alla fine lo farò. E' un cocomero o ancora. Tra l'altro sembra di quella di gomma che una volta si usavano tipo punch ball. E' più spesso di un palloncino. E poi in realtà mi sembra basta. Il resto sono tutti accessori della action camera per poracci. E se poi nel sacchetto mi spunta altro poi ve lo faccio vedere. Allora questa è la scatola che mi è arrivata aperta da qua. Perchè quelli di timo nel sacchetto la cacciano proprio dentro. La scocciano tutta. E quindi le scatole un po' patiscono. Però il contenuto per quel che mi riguarda è sempre arrivato intero. Quindi vi faccio vedere. Ok allora. E' una 4K Sports Ultra HD TV Subacqueo Water Resistant 30 metri. Poi che c'è scritto. Ok. E' 16 megapixel 4K 30 fps. 60 giga TF card perchè c'è la mini card. 170 gradi di grand'angolo. Wifi H.264 che non so cosa voglia dire. Ci può dare in moto in sci e in cinautico. Tutti sport che io pratico. Poi qua c'è la carrellata dei accessori. Qua c'è un'altra cosa. Questo coso se vi interessa. E dietro un po' tutte le caratteristiche. Allora in realtà io non è che faccia tutti questi action sports. Ma allora l'ultima volta che ho usato la fotocamera subacqua. Che probabilmente non era l'anno scorso. Perchè l'anno scorso. Oddio sto impallando il microfono. Chissà da quanto. Perchè l'anno scorso con quel caldazzo che c'era sono andata al mare tipo quattro volte. E non credo di averla mai usata. Perchè appunto l'acqua era sempre putrida. Quindi mi sembra che l'anno prima la mia fotocamera subacqua adesse i numeri. E quindi ho detto questa roba costava tipo 19 euro. Poi comunque se le riprese sono belle mi verrebbe anche più comoda qua per fare i video in altri modi. Quindi poi ovviamente sfrutterò la mia action camera per boracci. Anche per fare i video ovviamente. Poi questo è il copioso manuale. Ok. 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 vabbè vedete c'ho la mia mano ecco qua vabbè da lì che spara ho un sacco ciao ciao e ecco qua e la rispingiamo e ti saluto eccola qua allora dicevo la rimettiamo così sembra solita non l'ho ancora provata in acqua allora come si incastrava così e così quindi questa era già montata nella cosetta subacqua ora c'è sta cosa rumorosissima la roba era contenuta qua dentro poi vediamo cosa c'era dentro allora questi sono vari lacini che mi ha coperto col velcro perché c'è un sacco comunque di accessori e infatti io perché appena accesa aveva un cosco scritto 3M e un loop e faceva i video solo di 3 minuti ho detto ma ti pare che 3 minuti cioè che ci faccio e quindi non capivo e poi appunto sotto tutti gli accessori ho trovato il manualetto e da lì ho capito che per cambiare nel menu era il pulsante di accensione perché io schiacciavo quello sopra questo per scattare e poi ci sono questi per scorrere su e giù schiacciavo tutto non succedeva nulla invece poi il menu era questo di accensione che cambiamo anche allora questo è un velicrino così sottilino e questo è un velcrone che ha anche una cinghietta per fissarlo da quelle parti poi queste sono facette normale che se avete una Ducati le attaccate con la facetta altrimenti non si spiega il perché delle facette questa non c'entra nulla con questa allora questa qua la vedrete in un video allora questa non è una squishy ma è di quelle che ha un simono poi vedrete nei video allora è molto cute questa non so perché ne ho ordinato due cioè probabilmente ce l'avevo nei preferiti nel carrello l'ho selezionato due volte non me ne sono accorta e me ne sono arrivati due infatti ci vuoi a chi la regalo perché vabbè e poi l'ho data mia madre l'altra perché appunto lei le serve per fare ginnastica alle mani ed era giusta ma era comoda perché appunto io ne avevo comprata una apposta ma era un po' dura intanto vedo che questa è la cosa quindi vabbè ne ho una io che poi è bello che mi fa ma no ma smettila di comprarmi ste cose il microfono ma e mi dice ma no ma smettila di comprarmi ste cose e no veramente io la volevo una per me ne sono uscite due e te la do a te però torniamo agli accessori allora questo è un coso è bello anche qua con la vite e poi qua c'è questo che è tipo da bicicletta questo è un coso per pulire poi qua c'è un perno e questo è un altro con la chiavetta lascio qui che sono triggerosi tanto vabbè gli accessori più o meno li conosce tutti giusto per sapere quali ci sono dentro la scatola poi questo ma questo magari non si capisce bene allora questo ha piadesivo la vite e la cosa scorre e ci si incastra ovviamente il piadesivo non è 3M poi qui c'è questo e qui c'è questo questo probabilmente è per attaccarla senza la custodia subacqua capito che tra l'altro io una vera l'ho comprata ma per regalarla al tipo quindi l'ho vista e avevo preso poi anche tutti gli accessori però ovviamente per me compro quella da poraggio poi questo non ho capito se sia il ricambio perché mi sembra proprio uguale probabilmente si spacca spesso il cardine o magari perde la guarnizione chi lo sa beh ma se perde la guarnizione perde tutto allora qui dentro c'era la la memory card che ho già ne ho filato dentro ah poi da qua non si vedono dovrebbe avere non lo so che prese sono se sono entrambe USB no però ne ha due quindi saranno diverse aspetta ma sta roba si vabbè che è ermetica però allora ogni volta che la tengo da fuori mi spacco le occhie allora questi sono i pulsanti che vi dicevo che per il menu e qua ci sono allora questa è la slotina dell'ASD e poi ci sono queste due prese una è USB e l'altra non lo so poi c'è questo ma questa è aspetto ecco questi sono più adesivi e il cordino d'acciaio questo è il cavo super gigante come al solito eccolo qua ed USB la mini USB credo qui c'è questo così e poi mi spira l'ultimo basta quindi per 19 euro ce ne sono comunque diversi tipi io ho preso non era proprio quella che costava di meno mi sembra mi ispirava questo 4K che poi tanto non lo so distinguere e basta ora poi penso che vi metterò dei video così da capire un po' la qualità e non ho provato a vedere se ci si possa agganciare un microfono cioè questa ha già il suo microfono integrato però siccome ha la USB non so se un microfono ci si può attaccare chi lo sa vedremo lo scopriremo nei prossimi video quindi vi faccio vedere i video e poi vi auguro la buona buona buonanotte